Immergiamoci oggi nella preparazione di un piatto avvolgente e di grande sapore, le penne affumicate, un connubio di penne, speck croccante e scamorza affumicata, il tutto abbracciato da una salsa di panna cremosa che esalta ogni singolo gusto affumicato. Ingredienti 320 grammi di penne rigate, 150 grammi di speck a cubetti, 100 grammi di scamorza affumicata, 200 ml di panna da cucina, 50 ml di latte, una cipolla piccola, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Cominciamo tritando finemente la cipolla e soffriggendola in padella con un filo di olio extravergine di oliva fino a renderla trasparente. Unite lo speck a cubetti e lasciate rosolare fino a ottenere una piacevole croccantezza. Cuocete al dente le penne in abbondante acqua salata e nel frattempo preparate la salsa a base di scamorza affumicata, a cubetti, panna e latte nella padella con lo speck. Mescolate delicatamente fino al completo scioglimento della scamorza ottenendo una salsa cremosa. Regolate poi di sale e pepe. Scolate la pasta e amalgamatela con la salsa mescolando sul fuoco per far sì che tutti gli ingredienti si legano perfettamente. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per ricette che sapranno trasportarvi nei luoghi più incantevoli attraverso i sapori. Visita anche il nostro sito web per approfondimenti e curiosità. Servite le penne calde e se vi piace aggiungete un'ultima spolverata di pepe nero o erbe aromatiche. Buon appetito! Le penne affumicate sono l'essenza di una cucina di montagna rivisitata dove la cremosità della panna abbraccia la forza dell'affumicato. Un piatto confortante che riscalderà il vostro spirito e delizierà il palato.